carissimi amiche carissimi amici buongiorno dal vostro caro giocheri l'unico lui che vi porta video giochi del passato e del presente iniziamo quindi a giocare questa grande avventura in brocaneven allora prima cosa che devo fare è editare praticamente qualcosa qui sopra non posso editare il salsiccio perché perché un pochettino salsicciato praticamente qui e vediamo quindi dove ci troviamo do you need a bodyguard do you need a bodyguard eccolo qua praticamente il ragazzo il bodyguard lo il bodyguard lo vedi ragazzi il bodyguard lo vedi un pochettino il bodyguard lo si trova praticamente in questa in questa situation in questa situation andiamo a vedere ragazzi in questo mondo fatato cosa c'è il braccialettaro orologio di altissimo livello mascherina sulla faccia con la lina cristiana il bodyguard la maglietta vintage è proprio lui guardalo qui con la collanina con la collanina perfetto ma sta portando proprio il bodyguard mi porta con me in questo mondo ma io me ne scendo bodyguard ma chi sei tu per prendermi e per prelevarmi in questa maniera andiamoci avanti con l'orsacchiotto allo scarse letti alla scarse letti ragazzi lo ricordate il mitico scarsi andiamo qui all'interno della macchina del mondo della polizia nella mitica foto o bodyguard ma fai finta che questo viene questo eo mamma mia ragazzi ed eccola qua chi è questa la professoressa la sciantosa praticamente la sciantosa che tiene in mano che tiene in mano ha fatto questo a mi ha buttato per l'aria che fa mi butti per l'aria la sciantosa la sciantosa guardi la sciantosa praticamente assoluto davvero ti guarda così ecco nicoletta ragazzi nicoletta buongiorno a te come stai benvenuta sulla live di roblox nel tuo amico il giochere lune qui sopra c'è un'altalena praticamente quindi ce ne andremo anche qui sopra e vediamo un pochettino qui eccola qui eccola qui 00 peppe praticamente 00 peppe come puoi vedere la ragazza 00 andiamo a vedere da quest'altra parte qui che cosa possiamo trovare il bunga bunga praticamente il bunga bunga qui e quindi ah no adesso pareggio con quello là il bunga bunga ragazzi il bunga bunga ecco qua vedete questo qua la ragazza mamma mia si trasforma in un razzo missile mi sono svegliata mi sono appena svegliata grazie nicoletta quindi di essere venuta devi scegliere sempre il canale del giochere lune come il canale ovviamente del tuo del tuo grande amico qui sopra c'è la sciantosa vedi la sciantosa che si pone qui sopra sul pilastro si è messa sul pilastro anche lei si mette sul pilastro se la credono un pochettino che fa questa persona mi butta come ti permetti di buttarmi per l'aria ehi ehi ma stiamo stiamo scherzando ecco qua assurdo simo e jessica simo e jessica buongiorno a voi da parte del giochere lune come stai oggi ti faccio vedere il mitica mitica live di roblox molto molto bella molto molto gradevole che ti porta il tuo amico giochere lune io mi sono detto alle 4 di notte e molte volte mi pensa anche io mi sono svegliato a volte anche alle 3 di notte penso un pochettino nicoletta c'è assurdo simo e jessica lo so in questo che fa questo ma che fa questo di bussa ciao 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 però mi butti ma questo che vuole ma questo fa molestia ma che vuoi ma 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 che cosa vuoi che cosa guarda 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 e guarda il bombolone chi è lui chi è lui alfredo alfredo icci ma lo butta proprio per terra capito che fa capito che fa praticamente ti investe praticamente ti investe ti butta per l'aria cioè non che fa non ti fa giocare ho cambiato il nome simo ecco qua simo simo ho cambiato il nome simo quindi prima eri simo adesso sei diventata simone e jessica vabbè fontanella incredibile qui sopra e vediamo lui chi è questa persona ragazzi guardatelo l'incappucciato l'incappucciato questo è il grande marinaio grande marinaio vedete con l'uniforme e addirittura il cappuccino il cappuccino non è quello che si mangia e che cos'è despisciamolmi praticamente penso poi play despisciamolmi vabbè ovviamente ma sei fidanzata con jessica io ma assolutamente no simo a lui simo ho messo questo nome perché io e jessica siamo fidanzati viviamo insieme a complimenti complimenti ovviamente a questa grande scelta e simo e jessica fa bene così vivete insieme sicuramente potete costituire anche una famiglia semplice senza bambini oppure fare bambini vediamo un pochettino e questa chi è la simpatichella la simpatichella colchettine cosce quadrate addirittura e qui sopra che c'è il grande bunga bunga vedi un pochettino il bunga che cosa vuoi che cosa vuoi da me mamma mia mamma mia è stato un po picchiato dobbiamo dire la verità un mondo un pochettino particolare dobbiamo dire la verità vedete ragazzi guardate qui un buon indaggio perché il bombolone il bombolone mamma mia aiuto aiuto sto morendo ragazzi molto triste da questa parte qua andiamo avanti ma vedere qui sopra che cosa accade ecco qua modeling 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 che cosa un centro di un centro di estetica forse e qui la mitica polizia andiamo qui dentro nella polizia non c'è nessuno ragazzi molto molto triste su questo piano qua andiamo a cercare di correre praticamente con il nostro giocherillone nicoletta maronna mi maronna mi ecco qua vedi ci sono tante pubblicità tutte queste pubblicità che sono all'interno di brokeneven proprio per queste sono gli inserzionisti brokeneven school andiamo a scuola maronna maronna sono arrivati i marò più i marò che maronna andiamo qui sopra principal office entriamo qui dentro ciao buongiorno sono il preside ciao buongiorno sono il preside il preside ecco qua il posto fisso ma sta giocando auto vedo praticamente questo ecco qua maronna mi e quindi non studenta lo vede e quindi non sono uno studente a clan toilet pulisci il bagno praticamente pulisci il bagno il sottotetto qui ci vai a tozzare con la testa non è abitabile auditorium addirittura dell'auditorio ma mi vede un bel film ciao ci vediamo un bel film brokeneven simo e jessica dice che cos'è il mondo al contrario il mondo di mamma ma soprattutto quello che possiamo notare guarda un pochettino una porta però no no non voglio andare presente qui sopra vuoi andare qui dentro no non voglio andare perché mi fai andare praticamente qui dentro mamma mia ragazzi giocatore mi metti in moderatore simo jessica devi candidarti a moderatore deve andare sul canale di discord del giocherellone e sul canale di discord del giocherellone poi candidarti a moderatore ma devi avere 18 anni ed è preferibile l'abbonamento sia a twitch che a youtube per candidarti come moderatore quindi devi sostenere anche il canale si dà la preferenza chi sostiene il canale agli abbonati quindi 18 anni abbonato su tutti e due i canali e poi ovviamente ovviamente devi presentare la candidatura ecco qua l'unica live dove non ho il moderatore e lo so caro simon mi dispiace il canale giocherellone funziona in maniera e io ho 18 anni allora ti devi abbonare al canale al terzo livello devi essere moderato abbonato anche su twitch e ti devi candidare c'è un gruppo di moderatori più me praticamente che valuteremo la tua richiesta se sei ovviamente una persona affidabile perché il moderatore è molto molto ovviamente ha delle responsabilità molto particolari e e poi dopo può moderare può buttare fuori può silenziare può editare i messaggi penso poverti perché questo è un canale diciamo di media grandezza un giorno forse diventerà anche un canale di grande quindi da 100.000 iscritti in poi e un giorno forse arriveremo anche un milione di iscritti è arrivato xod caro xod ciao come stai bentornato sul canale del giocherino e guarda qui caro xod e il diavoletto guarda il diavoletto mamma mia mamma mia mamma mia il diavolo che ti guarda praticamente il diavolo il luciferone guarda non ha nemmeno la faccia a studio sono mondo a tre quattro persone nicoletta diciamo purtroppo il canale del giocherino è un po diverso capito perché il progetto di come tu pensai del giocherino è molto molto grande è molto molto grande quindi noi vogliamo diventare la nostra comunità non solo io la propria la nostra comunità questo mister karate vuole diventare il più grande canale di videogiochi al almeno in italia almeno in italia non dico al mondo ma almeno in italia le competenze ci sono le persone che ne capiscono di videogiochi e videogiocatori ci sono persone per bene ci sono quindi noi aspiriamo tutta la community credo anche tu a diventare il più grande canale di videogiochi in italia e allo stesso tempo allo stesso tempo pensate un pochettino ovviamente di far crescere i canali correlati a questo canale adesso intro vini xod eccolo fatto bravo simo e jessica come ti chiami sul roblox giocherino e 79 solo fra 15 ciao ciao solo fra io io tu sei simo e jessica hai visto cosa ci siamo scritti io e jessica cosa vi siete scritti io e jessica mi permetto anche io di partecipare perché ovviamente siamo su questo canale volta qui la pazza la pazza di bro che neve guarda la pazza di bro che ne guarda attenzione che questo è un mostro che un mostro è un mostro questa è un mostro guarda è caduta per terra è caduta ma che fa ma mamma mia siamo a ca il vostro il mostro 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 Ti avevo detto, usciva il mostro da fuori. Come ti chiami su Roblox? Io, Aderan Rakita, prima cosa, buongiorno. Io mi chiamo, mi chiamo Giocherellone79, Nicoletta Noosimo. Vediamo un pochettino qui sopra, il bombolone, il cinesino, il cinesino, guarda il cinesino che è ancora attaccato, il cartellino praticamente, il cinesino che vende le frittatelle di pasta praticamente, quindi una cosa assurda. E qui chi c'è, ragazzi, attenzione, potrebbero essere dei mostri. Attenzione, è all'elfa della notte praticamente, guarda qua. Sono Robloxod, è il mitico Xod, Xod, mettiti la macchina, guarda Xod, guarda Xod, protagonista della live. Chissà che se Xod un giorno si abbonerà al canale del Giocherellone, spero di sì. E così gli farò anche la canzone di Xod, guardate Xod, a Xod gli è stato fatto gli auguri del compleanno, ragazzi. Quindi mi raccomando, mi raccomando, assurdo davvero. Andiamo avanti, andiamo avanti a vedere, vedete, Vacant, Broken Heaven, qui sopra vediamo un pochettino cos'altro. C'è Xod, vieni con me, dove è Xod? Il grande Xod. Affitta una roulotta, affitta qualcosa, affitta una macchina. Buongiorno Giocherellone, Elbro pazzo di Napoli, Elbro, grande Elbro. Come stai per prima cosa? Buongiorno a te, grande pazzo napoletano. Tu sai che io sono di origine napoletana e non posso che ovviamente augurarti una buona giornata, darti un ottimo, buonissimo buongiorno. Ovviamente, ragazzi, se vi piace, se vi piace, domani il mio compleanno di un mio amico, il tuo grande amichetto. Come si chiama questo grande amico? Ecco qua, vai in macchina, mamma mia, coxod. Ragazzi, dopo intitoleremo questa live in macchina coxod. Perché? Perché, ragazzi, chi partecipa alle live è, come voi sapete, sempre protagonista delle live e quindi giustamente, giustamente, è giusto che ci sia. E il tuo amico fa il compleanno, quindi tanti, tantissimi auguri al tuo amico. Il famosissimo, come si chiama il tuo amico? Non lo sappiamo, forse un giorno lo sapremo. E andremo a festeggiare anche io. Xod è andato via, praticamente, che fa Xod? Vedi un pochettino la tuta gold, la tuta gold. Vediamo un pochettino il grande Xod, il grande protagonista di questa live con l'angelo diavolo. Angelo diavolo, uuuuuh, Xod. Ma inquadriamo Xod, non posso dire come si chiama privacy. Certo, la grande privacy, Peppino di Capri. Intanto c'è una piccola, uh, chi è questa praticamente? Guarda, c'ha il cappello con le cona, questa è la diaboletta. La diaboletta con l'orstacchiotto diavolo, praticamente, Xod. Che cosa vuoi fare qui con tutti questi amici? Vediamo un attimo, ecco qua, il professore, il professore innamorato. Vedi un pochettino, io non so come si chiama. Come si chiama? Giovannino, giovanino russo, Xod, vieni con me. Guarda qua, il professore innamorato. E guarda qui chi c'è, ecco qua. Guarda, eccolo qua, skateboarder, skateboarder, il cinesino, il cinesino, la bambina diavola. Praticate, guarda qui, la bambina diavola, col pupazzetto, Xod, fai qualcosa. Guarda qui, guarda che c'è qua, il brofra è il brofra. Vedi un po', ah, Schermer, Schermer si chiama questo, vedi. Vedi che dice, Taslaref. Tommasilo, Tommi si chiama, ah, il grande Tommi, il grande Tommi, ma Tommi non è stato già il compleanno. Oh, ha acchiappato a quello, ha acchiappato a Tommasilo, ha acchiappato il bro, ha acchiappato il bro, ragazzi. Il brofra, io vado un attimo, ciao, ciao Nicoletta, ciao, Daniel, Tariq, caro Daniel, come stai? Ecco qua, mi faccio prendere, mi faccio prendere, piemi nel furgone, ecco qua, dammi un passaggio. Qui non abbiamo i denari, non abbiamo i denari per fare nulla, praticamente, portami un braccio a casa di mamma. Portami un braccio a casa di mamma, Simo e Jessica dice ok. Grande, grandissima live, se mi piace Roblox, mettete mi piace a questo video, ragazzi, così, così porterò altre live di Roblox. Spera e basta, no, le intelligenza artificiale gli hai fatto gli auguri prima, perché dicono che se gli fai gli auguri prima del suo compleanno, gli dai sfortuna, lui disse il mio compleanno, non mi ha fatto gli auguri perché, diciamo, è stata una mia idea. Lui disse, mi fai gli auguri, guarda qui sta, la pazza, la pazza, guarda qui è la pazza, guarda la pazza. Oh, ecco qua, voglio andare anche io, vai, mamma mia, mo' ti porto, praticamente, fai la pazza, la pazza è assurda, ragazzi. Chi si viene a fare un giro in macchina con me? Chi ti vuoi venire a fare un giro in macchina con me? Cocksod, praticamente, Giuliozzo, 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 vieni con me. Ecco qua, Giolex, caro Giolex, sei arrivato molto tardi, ieri non c'eri, ieri non c'eri, e addirittura il tuo amico Giocarellone pensa un pochettino, che cosa ha fatto, praticamente, che cosa ha fatto? Ecco qua, hacker, praticamente, assoluto davvero, guida tu, guida tu, guida tu, sei tu protagonista di questa live, sei tu protagonista di questa, insieme con te, ecco qua, andiamo praticamente via. E quindi, peccato che non sei venuto, ragazzi, Giolex è il nostro abbonato di terzo livello, è anche un ottimo donatore, ha supportato e supporta il canale molto molto bene, e quindi gli abbiamo dedicato al caro Giolex, pensate un pochettino, un vero e proprio personaggio, un avatar, nel gioco che porterò nei prossimi mesi, più di tutti. Ovviamente, qua le stiamo parlando, il mitico Eldarind, mi puoi cacare, ti abbiamo cacato prima, scusami la volgarità, ma ti ho salutato, caro Adrian, caro Adrian Rakita. Spera e basta, io e le live, sì, è il bello pazzo di là, ma il cinesino, il cinesino col cappello, quello là da 5 euro. Pino Schulte, ragazzi, Pino, ragazzi, il grande Pino, detto anche il Monascello. Voi sapete che un Monascello, un Monascello, non so se avete visto la serie di Gomorra, ci sta un personaggio che si chiama Un Monascello, e Pino porta i capelli a Monascello, proprio, pensate. Spera e basta, io non essere vero, io essere pupazzo. Giocherellone, purtroppo non posso venire tutte le live, ho impegni a volte, lo so, lo so, me lo dicesti. Vabbè, vatti a vedere la live nella sezione video, e non nella sezione live, perché nella sezione video trovi la live a 16 noni, audio di altissima qualità, video di altissima qualità, chat incorporata e soprattutto la videocamera. Simo e Jessica, lo sappiamo, ora entro pure io, ragazzi, sta arrivando Pino Schulte a Brokenhaven. Pino Schulte è il ragazzo calabrese da 4.000 euro al mese, che però a fine mese rimane sempre con 0 euro sul conto corrente, non sappiamo perché. Ecco qua, Simo e Jessica, lo sappiamo, lo sappiamo, ah, tu lo sai Simo e Jessica. Spera e basta, vabbè, ciao, ciao, spera e basta. Pino Schulte è un Monascello, un Monascello, vedi il Monascello? Ecco qua, Daniel Tariq, una domanda, come ti chiami su Roblox? Giocherellone79, se vuoi giocare con un MAPE, sarai protagonista anche tu della live, come viene a essere protagonista il grande XOD, vedi un pochettino XOD, si trova qui in live. Nicoletta è ritornata. Pino Schulte, ecco qua, Pino Schulte, vedi il cuore di mamma, il cuore di mamma, come ti chiami su Roblox? È il vero pazzo di Napoli, sempre Giocherellone79. Giocherellone, comunque ora, il mio compleanno, dovrei prendere l'iPad oppure l'iPhone, quale mi consigli? Dipende, se hai un telefono performante, meglio l'iPad, se hai un telefono, un telefono non performante, meglio l'iPhone, ecco qua, Peppe, ragazzi, è arrivato Peppe, è arrivato Peppe, caro Peppe, buongiorno a te, buongiorno dal Giocherellone, oggi stiamo facendo una live con XOD, pensa un pochettino, il nostro caro amico su Brokenever, salutiamo ragazzi tutti quanti Peppe, scrivete caro Peppe, ciao. Pino Schulte, sono nella stazione ferrovia di Roblox, vieni, vieni, nella stazione ferrovia quella là, quella là con i biglietti, praticamente, che a volte non vengono staccati i biglietti, poi vai a fare il controllore sui biglietti, praticamente, vedi un pochettino XOD, XOD mi ha portato a vedere il panorama, non fate quello, mamma, guardate XOD, si butta giù, ma non fatelo da vivo, ragazzi, mi raccomando, vieni, vieni, Peppe, ciao ragazzi, di Pino Schulte, che si chiama Peppiniello, pensate un pochettino, il vero nome di Pino Schulte è Pino, quindi Giuseppino, andatevi a vedere sul mio canale la canzone dedicata a Pino Schulte, che è anche un abbonato, ragazzi, è anche un abbonato, Pino Schulte, nonché un moderatore, il moderatore capo, Pino Schulte di Twitch, avete capito bene, il moderatore capo è proprio lui, grande ragazzo calabrese, grande lavoratore, grande amante delle donne, ma purtroppo cerca una moglie, quindi se avete da 18 anni a salire, ragazzi, contattate Pino Schulte, il bellissimo ragazzo calabrese, abbronzato, palestratissimo, ricchissimo, grande lavoratore, grande videogiocatore, grande amatore, ecco qua, Nicoletta, pov, ieri sono svenuta e un ragazzo mi ha fatto l'espressione bocca a bocca, ma cosa stiamo dicendo? Vabbè, l'importante è che tu sia ancora viva, Pino Schulte dice, ballo, ballo e canto, vieni a vedere la mia canzoncina, la canzone che mi ha fatto il mio amico giocherellone, NPT202, che skin di cacca, perché dici questa cosa qua? De gustibus, sui gusti non si disputa, e non si sputa nemmeno. Andiamo avanti, amico di sempre, Pino Schulte è amico, moderatore, abbonato, ma soprattutto ragazzo, uomo calabrese, 4.000 euro al mese, che manda i bomboloni, Simo e Jessica, cosa fortunata, hai capito bene, Simo e Jessica, ah ah ah, Pino Schulte ciao, ciao, vedi come ti saluta Pino Schulte, vedi, Pino Schulte è il ragazzo calabrese da 4.000 euro al mese, il capo moderatore di Twitch, ti saluta, il mitico Dragonfire YouTube, è arrivato, anche io gioco a Roblox, allora se vuoi giocare con noi, potrà, oh oh oh, sta andando a fuoco, sta andando a fuoco questa parte qua, corri 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 corri, sta andando a fuoco questa parte qua, che cos'è? La bomba di mamma, la bomba di mamma, vai piglite sta macchina, piglite sta macchina, è in esposizione, è in esposizione, ovviamente XOD riesca a fare qualcosa, Giolex, giocherellone, leggi cosa ho scritto, cosa è scritto, non ho letto, scusa, Nicoletta era la cosa più bella del mondo, come faccio a giocare con te? Cerca giocherellone 79, giocherellone 79, e troverai, tante, tante praticamente, e troverai, potrai giocare praticamente con me, e addirittura con XOD, che è questo ragazzo qui, armato addirittura di doppia spada, bella, bella, ovviamente, Giolex, cosa è scritto? Dragonfire YouTube, il migliore gioco di Roblox, quale è il migliore gioco di Roblox? Ti consiglio Adopt Me, quello devo fare, mi devo fare adottare da voi, praticamente, adottatevi, adottatevi, andiamo a vedere il mitico XOD, dove è XOD ragazzi? XOD non l'abbiamo più trovato, ah, eccolo qua, l'estintore di XOD, l'estintore, ce la puoi fare, grande XOD, Dragonfire, ti consiglio Adopt Me, verrò adottato da Pino Shooter, pensate un pochettino, Pino Shooter potrà adottarmi, il negozio, ecco qua, vedete un pochettino, qui c'è un iPhone, un Android, il coso caureano, praticamente, la custodia, c'è veramente di tutto e di più, e qui sopra che altro c'è, praticamente, mamma mia, H7L, mamma, il PC portatile, il PC fisso, vedi un pochettino, con i siti sozzarelli, che ogni tanto si vede Pino Shooter, e ogni tanto Pino Shooter, in attesa che arrivi la moglie, che trovi la moglie, si vede i siti sozzarelli, assurdo davvero, ho giocato a Brawl Star per due ore, mamma mia, Giolex, sei stancabile, Dragonfire, la stessa cosa che disse ora a Pino Shooter, è stancabile, ma non perché giocava a Brawl Star, no praticamente ad Optin, devi adottare un animale, un animale doveva adottare, adottiamo, 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 che animale vogliamo adottare, caro Pino, spera e passa, sì, ma iPhone troppo piccolo, troppo piccolo, compra ovviamente un grande televisore, Peppe, come gioco interessante, lo Taboo Canever, c'è anche Fuga dalla prigione, e lo giocheremo, e se verrai anche tu in live, caro Peppe, lo giocheremo con te protagonista, caro Peppe, hai capito bene, caro, caro Peppino, che tiene il grande piano, il grande piano da suonare, quindi se io premo è, vedi vado a suonare, è arrivato Mozart, è arrivata la signora, sei senti, è arrivata la signora, assoluto, io ho giocato fortunatamente per 3 euro, una volta ho giocato fortunatamente per 5 euro, proprio Pino Shooter, ecco qua, un munacillo, un munacillo, guardo un munacillo, stai ucciso, Marcello Lettucci, perché dici questa cosa brutta? Simo Jessica, what cosa ci fa qua, non eri andato via, chi è andato, Dragon Fire YouTube, io ho un po' di, un po' di per su, Adopt Me, ma comunque se vuoi, puoi essere adottato, mi vuoi adottare tua, Dragon Fire YouTube Pet, Simo Jessica, sono arrivato a mille vittorie di fila, giochi, se io vado a giocare a Brossar, ciao Brossar, Pino Shooter, Pino Shooter ovviamente, commenta, commenta una situazione un po' brutta, guarda le mani, Pino Shooter, guarda come sono rimasto con le mani, vedi, ha due mani, ha due mani, ha due mani ragazzi, ha due mani, è proprio il caso di dirlo, andiamo avanti, calma Simo, non è bella da parte tua, ecco qua, Simo, Simo è impossibile, Juan Carlos non è a 200, Dragon Fire dice, wow, Juan Carlos, hacker, Pino Shooter, mille, mille, mille vittorie, tu hai, che perché giochi a due mani, vedi un pochettino, vedi come fa lui, vedi, gioca a due mani, molto, molto tristarilla, ecco qua, andiamo avanti, andiamo avanti, sono rimasto a giocare a due mani, non voglio giocare ragazzi a due mani, perché continuo a giocare a due mani, devo fare, ecco qua, che ho fatto, ho fatto, hai fatto, hai fatto, ma anche un mio amico, mi ricordo, una volta c'era un mio collega, pensa un pochettino, vedi, vedi che fa in macchina, assolutamente brutta situazione, Pino Shooter, io ho giocato per otto ore, Joe Lex dice, hacker, Dragon Fire, lo so che si fanno così le mani, con l'arcade, si fanno così, Nicoletta, giocare non leggi, questo ho scritto sopra, non l'ho letto Nicoletta, puoi iscrivere, Dragon Fire, se lo togli, lo devo togliere, è il coso che si fa a due mani, praticamente, vedi, ecco qua, è un biscottino, più biscottone che biscottino, caro Pino Shooter, dobbiamo dire, sono situazioni anche imbarazzanti, secondo me, si vengono a creare delle situazioni qui sopra, molto imbarazzanti, Joe Lex, comunque giocare su un brawl, ho fatto 1300 coppe, poi ci giocheremo a Brawl Star, e giocheremo anche all'altro gioco, dei Supercell, pensate un pochettino, in più, intendo, intendi, e nintendo, praticamente, Dragon Fire, sì, adesso ne ho 9045, assoluto davvero, il biscottino, il biscottino, vedi un pochettino, vai col biscottino, praticamente, e ti ricordi la canzone del biscottino, e tu lo sai, e lui è carino, quando tu lo vedi, è vero, nell'ufficio, la respirazione bocca a bocca, è la cosa più importante, bocca a bocca, è la cosa più importante, diciamo il bacio, il bacio è l'essenza dell'amore, ma tu lo sai, Simo Jessica dice, ho 68.235 coppe, addirittura, i cupuliel, praticamente, e una cosa molto molto bella, cara Nicoletta, il bacio è l'essenza dell'amore, se vai sul mio canale YouTube, ho fatto scritto, ho fatto proprio un video, sul bacio passionale, cerca bacio, e vedrai quel video, che ha avuto anche un discreto successo, spera e basta, ho fatto, ho fatto praticamente, spera e basta, che ha fatto, Simo è vero, ha fatto le coppe, poi non so come si tolgono, Joelex, pensavo al biscottino, Nicoletta, l'espirazione bocca a bus, deve essere abbastito ragione, Joelex, secondo me, è bugiarda, Aurora, Aurora spalla, ciao, mi chiamo Maya, mi saluti, cara Maya, buongiorno a te, buongiorno a te, guida tu, Xod, guida tu, non ti preoccupare, ecco qua, guida, guida tu, non ti preoccupare, vai guida tu, e no, ti stai mettendo da una parte sbagliata, caro Xod, ecco qua, mettiamoci insieme a Xod, ecco qua, perfetto, ecco qua, possiamo andare, e quindi ti saluto, carissima Maya, il bro fa pazzo di nab, come canti bene, puoi fare il cantante, e infatti ho fatto dei video musicali, se vai sul mio canale YouTube, e clicchi sulla playlist, sul podcast musica, vedi i miei video musicali, dove ballo pure, faccio così, vedi, assurdo Joelex, allora come ti chiami su bro, che controllo di classifica locale italiana, come mi chiamo, giocare di 79, quanta Pino, ha messo il pacman, Simo e Jessica, mi chiamo Lavastoviglie, Joelex e Eva, boh, io entravo in fare, io su Brocchenevere una volta, me ne sono scappato, perché uno che per baciare una ragazza, ha fatto la respirazione bocca a bocca, poi me ne sono andato, nel server privato, perché volevo fare anche a te, la respirazione bocca a bocca, Lavastoviglie, non ha mille winsticks, Giovanni ragazzi, posso entrare, caro Giovanni certo, entra anche tu, e sarai protagonista anche tu, della live, guarda il dito, guarda il dito su Twitch ragazzi, se avete Twitch, venite anche su Twitch ragazzi, e mettete mi piace a questo video, che ci manda il cuore, salutiamo ragazzi, la mitica Maya, la mitica Aurora a spalla, giustizia per Cristo, l'ha avuto il canale indietro, l'ha avuto indietro, pensa che una volta, Pino Shooter, pensa che una volta, oh addirittura qui stiamo morendo, una volta, una volta un mio amico sbagliò, praticamente perché gli fu rubato il canale, e lui disse, praticamente lui disse, lo ha avuto dietro, praticamente sbagliò, praticamente a parlare, con queste frasi un pochettino ambigue, Joelex, Simo, allora Giocamma, Simo, Jessica dai scherzavo, spero e basta, Simo e Jessica mi chiamo, spero e basta, ciao Dragonfali, io ce l'ho questa casa, Simo lo sapevo, dice Joelex, aspetta, dammi il tuo D, giocherillone 71, Joelex però quante coppie hai, serio dai Nicoletta, io l'ho visto un video dove un ragazzo ha fatto, con una ragazza su un gioco Roblox, ma no che orrore, mamma mia Nicoletta, ma cosa vedi, Alessia Del Monte, come ti chiami su Joelex, giocherillone 71, Joelex io non ho voglia, dimmi il tuo, addirittura non ho voglia, la privacy del mitico Joelex, pensate un pochettino, non si fida di nessuno, Joelex, il Savianese, Joelex io non ho voglia, dimmi il tuo, non ti voglio dare praticamente, io il mio mitico, il mio mitico, e di mamma mia ragazza, questa è la casetta praticamente di Casode, mi chiamo QLS, slash Mambak, Mambak praticamente, Mambark, più Mambark che Mambak, e sono arrivato con questa parte qua, eccolo qua, il gioco del lunedì, si mette alla Pino Shooter, Pino Shooter molte volte si mette così sulla sedia, guarda vedi al tic, vedi che al tic, un pochettino al tic, ecco Lollipop, ciao Giocherelone, caro Giovanni Russo ragazzi, il mitico Giovanni Russo, ho detto anche, anche Lollipop, io non ho voglia, ciao Giocherelone, ciao ciao, come stai Lollipop, è Joelex, simbo di Miltu, Pino Shooter, ci è arrivato Babbo Natale, il ragazzo della B Stefani, però quante coppie hai su Brawl Stars, Simone, io ti dico quello che di mia sorella, perché il mio terzino è scarico, Dragonfly, infatti non devi dare il nome, se non, se riesco, ti rubano l'account, si, con la password, praticamente a 4 caratteri, hai messo la password a 4, prima ero ricco, dice le Dragonfly, adesso è povero, Simone Giocherelone, è il giocherone, se tanto la miseria, a cucuziello, a cucuziello, vedi un pochettino, guarda questo come si, è che, un cane è arrivato un cane guarda il ninja è un ninja gaiden più un ninja gaiden ti ricordi il ninja gaiden prima ero ricco ecco miseria cucuzia guarda il cane è un cane è un cane umano un uomo vestito da cane col crocifisso cattolico ecco qua beh ragazzi dobbiamo dire il piccolo cane il piccolo cane di Babbo Natale ed eccoci qua i grandi amici grandi amici questo con l'accetta in mano la vedo male la vedo male il sacrificio del cane speriamo di no meglio non avvicinarsi ecco qua a me se la cucina ebbiamo pazzo di no ma devi accettarmi la richiesta per giocare con te quando è disponibile potessi farlo certo appena finisco questa live ci sarà pensa un pochettino incredibilmente un altro un'altra live quindi accetterò tutte le amici di Joe Lex quante coppe ha però vediti da anche delle Dragonfly che carino il cane Bob il cane Bob il cane ti piace il Bob il cane e guarda qua non mi cucinare non mi cucina non ti cucino non ti preoccupare non mangio carne di cane praticamente non mangio carne di cane guarda il cane non mi cucina povero cane guarda un pochettino e assomiglia un po' al biscottino dobbiamo dire la verità allora che carino il cane fai Micio Micio Bob scrivi Bob Bob se ti piace il cane se ti piace il cane metti mi piace a questo video incredibile davvero andiamo a vedere se è fatto una certa ora ecco qua è mitico mamma mia questo è di pedipia ad accettate Shining 3 voi sapete che è stato fatto il seguito di Shining con Micio Micio Bob Bob vedi vedi scrivi Bob Bob vedi Bob Micio Micio Bob scrivi Bob posso darti il mio nickname Dragonfly cari YouTube mi puoi aggiungere tu ahiaiai stanno uccidendo il cane mamma mia ragazzi no no scappatene però mamma mia hanno ucciso il cane ragazzi brutta scena bruttissima scena Joe Lex dice ma posso darti mio nickname aggiungimi tu giocarellone 79 è il bello pazzo di Napo se non mi piace se non ti piace non lo mangiare carne di cane in Italia è vietato lo sai mangiare la carne di cane ecco qua in Cina no oltretutto li uccidevano in Cina si mangia anche la carne di cane in Cina mangiano tutto penso un pochettino penso che una volta Pinot Shooter Pinot Shooter è andato in Cina volevano mangiare anche a Pinot Shooter ecco qua vedi un pochettino ecco qua come mi sto evolvendo mi sto evolvendo in cane praticamente vediamo un pochettino che se un Pokémon un Pokémon cow guarda un pochettino che cosa è diventato un piccolo un ragazzo cane sotto il cane oh no oh no il crescetiello il crescetiello ecco il piccolo nano cresceto e mi è arrivato un altro grande amico guarda che è arrivato il mitico Giovi ragazzi il grande Giovi salutiamo Giovi il tartarugino ecco qua no il cane ma è diventato un cresceto vedi un pochettino il piccolo cresceto di Babbo Natale guarda guarda è piccolo piccolo no il cane Dragonfire per qualsiasi cosa mi chiamo Dragonfire YouTube Gamer mi trovo in Cina adesso ti trovo in Cina ti piace la Cina praticamente ti piace il raviolone cinese Pietro Pollasso sono entrando Giovanni è arrivato Giovanni salutiamo Giovanni cosa mi vuole uccidere mi vuole uccidere il cresceto praticamente mi vuole uccidere il cresceto guarda il piccolo cresceto il piccolo cresceto col pigiamino praticamente lui chi è ragazzi guarda il tartarughino guarda il tartarugino il tartarugino mamma ma questa ha cacciato proprio il fucile praticamente da palla in faccia puoi uscire da proprio mi chiamo Alessandro 495 cara Alessia del Monte uscirò a fine live e ti aggiungerò il bello pazzo di nuovo ma il cane è il bracciale di ben 10 il cane è il bracciale di ben 10 ma anche la 104 penso un pochettino si cucina da solo vedi un pochettino come lo sporna tutto Giovannino sono io sei tu il mitico il mitico crescetillo Pino Shooter ciao ciao Giovannino ciao vuoi giocare a Fortnite vuoi giocare a Fortnite vieni mi dà più perdona vi ricordate quando Pino Shooter recitò in quel serie al tv eccola qua mamma mia questa è proprio ascia o raddoppia mamma mia ragazza guardate un pochettino i ragazzi i ragazzi armati oh mamma mia ragazza che cosa sei mi hanno rapito guarda quello che fa guarda questo che fa guarda mamma mia ragazza guardate il bro il bro il bro non fa ma poi nell'altra lave dice come ti chiami su roblo giocare l'1 e 79 giocare l'1 e 79 sempre giocare l'1 e 79 sempre Fortnite solo Fortnite a Sud Club Rocks aperto finale 2 è arrivato lui ragazzi il mitico palestrato il professore palestrato me lo prometti certo te lo prometti Alessia Pollastro aggiungo tutti sono io quello bianco il bianco sei tu chi sei tu il Pietro Pollastro si sono uccisi si sono uccisi ragazzi ve l'avevo detto assurda situazione la gang che fa Big Bang e il pro pazzo di Napoli Dragonfire ok Deborah Cicri Cicri ti adoro io ti adoro Deborah Cicri grazie per aver scelto il canale del giocare l'1 io sono uscito Xod se n'è andato Andrea Ceni bro ho disinstallato per sbaglio Roblox installalo e guarda lui il ballerino chi è questo praticamente guarda il ballerino il ballerino con l'occhiale con l'occhiale griffato Simo e Jessica e ti è ritornato guarda questo che fa guarda questo che fa ti guarda praticamente così qui sotto io Cristallo accettami l'amicizia Andrea Ceni mandami la richiesta di amicizia vedi questo c'è il pallone e lo zanetto pensa solo a giocare al gioco del pallone se vi piace il gioco del pallone andatevi a vedere sul mio canale la canzone del pallone praticamente pensate voglio diventare calciatore Andrea Ceni io Cristallo accettami l'amicizia il cristallone il regalone vedi il regalone del gioco dell'1 veramente grazie grazie mille abbonati al canale abbonati mamma mia quindi dopo prima ti iscrivi e poi ti abbonati pigliami il regalone mi prendo il regalone piglio tutto il regalone con il regalone sempre in mano vedi un bel regalone un bel regalone da portare sempre con noi vedi un pochettino guarda un pochettino cerco di aprire il regalone io Cristallo accettami è il mio pazzo vieni a giocare l'1 credo che sia medusa perché appena li vedi o spariscono muri si si pietrificano praticamente alla God of War e guarda lui guarda il tatuato è tutto tatuato guarda che tiene tatuaggi dappertutto è più tatuaggi che persona praticamente assurdo il pieno shooter il pieno shooter il monascello ha fatto il puntino il puntino il puntino di Chris Video mamma guarda qui l'orsacchio 8 pazzo l'orsacchio 8 di mamma addirittura il pieno shooter diciamo ecco qua dire Dragon Spire siccome è stata tanta gente che si chiama così puoi mandarla tu please mi chiamo Dragon Fire Youtube Game giocherellone 79 una ragazza ecco qua con il regalone sempre in mano quando Fortnite o stasera perché devo ancora aggiornarlo mi mancano circa 25 giga di aggiornamento visto che qui ho una connessione misto rame la connessione non è da fibra ottica e dovrebbero mettermi a fibra ottica da poco tra poco visto che quando si fanno questi aggiornamenti devo dirti non ti nascondo che fanno degli aggiornamenti dove ci metto un pochettino di tempo per scaricare tutto bentornato Chris ragazzi avete visto che Chris Video ha avuto il canale bloccato perché qualcuno lo ha segnalato ha detto tu vuoi vendere un televisore quindi vai un'attività commerciale di vendita di televisori Chris ha detto gli è stato bloccato il canale da YouTube Chris poi ha detto no no ti stai proprio sbagliando io ho venduto i televisori ma come ti permetti e quindi ha contattato YouTube YouTube ha detto non ti preoccupare adesso ti vado subito a ripristinare il canale perché sono io Pietro giocherò il grande Pietro ragazzi salutiamo Pietro e gli è stato bloccato il canale YouTube ha detto va bene ho capito non ti preoccupare non vendi i televisori cercavi solo di trovare un televisore e quindi l'invidia nei confronti di Chris è così sfociata e poi Chris ovviamente ha ripreso in mano il suo canale chi è queste persone ci sono delle persone mamma mia sono arrivate le ragazze ecco qua forse potrebbero essere anche le fidanzate dei Pino Shoot andiamo a fare YouTube è l'unico con il numero 79 alla fine infatti andiamo a fare tu comunque sei il mio idolo tu no tu sei il nostro idolo sei l'idolo tu della community del giocherellone mi hanno fatto paura ecco perché sono uscito ti hanno fatto paura le donne praticamente le donne ti fanno paura e può capitare praticamente guarda qui questa è treccina è la treccina praticamente e Nicoletta dice Pito Pito un pochettino di una bibita cassata e fa il ruttino libero alla fantozzi Dragon Fari in che senso è il beoazzo di Napoli è il beoazzo praticamente assoluto davvero il bro il bro il fan del bro sei il nostro idolo tu sei il nostro idolo Pino Shoot il ragazzo calabrese il capo moderatore di Twitch l'ha abbonato pensate un pochettino pensate ma sono fatti di Lego guarda le manine le manine di Lego sì ecco qua sono bambine Lego praticamente sono ragazze Lego avevano 79 anni queste ragazze assoluto davvero vedi un pochettino sono arrivate le ragazze ma che fa questo disteso con questo movimento strano vabbè penso che se ne sia andato non contrario tu tu da ronne sto filmando stai filmando tutto stai filmando stai facendo un video ecco qua addirittura Nicoletta sei il mio idolo tu sei la nostra idola ecco qua cara Nicoletta il bro pazzo di no cioè che tanti si chiamano giocherone ma è l'unico con il 79 alla fine del nome quindi giocherone è 79 tu giochi a murder mystery certo certo io gioco a murder mystery i tuoi giochi exotici mi tirano le ciabatte in faccia te le tirano dietro la testa dove te le tirano pensavo che c'era una ragazza che a volte usciva la sera usciva la sera con le amiche e si cambiava in ascensore visto che la mamma non voleva la mamma non voleva non voleva andare praticamente la mamma a prendere praticamente non posso via siamo rimasti con il regalone in mano non voleva che andasse in discoteca la ragazza scendeva con i jeans di casa si cambiava nell'ascensore si metteva la minigonna penso un pochettino andava in discoteca la mamma una volta la scoprì la tese con la ciabatta in mano e gli buttava la ciabatta per strada addirittura un pochettino come facevano a Pino Shooter quando usciva con le ragazze voi sapete che Pino Shooter per molto tempo è stato un ragazzo che non voleva studiare non voleva lavorare una volta la mamma di Pino Shooter quando Pino Shooter tornò a luna di notte era maggiorenne praticamente era uscito con delle ragazze aveva offerto lui praticamente queste ragazze avevano diciamo abbracciato baciato Pino Shooter la mamma lo attese sotto praticamente sotto il palazzo insieme a scimmia lo prese a ciabattate addirittura ecco qua diciamolo tutto scusa Pino Shooter in faccia in faccia in faccia e anche da qualche altra parte nella stessa parte dove le ragazze lo avevano abbracciato capisci a me e quindi ovviamente eh sei proprio dietro in cooler addirittura veramente assurdo del teatro il teatro vedi lui è il grande intellettuale il grande intellettuale con la mazza sempre in mano vedi che c'è una mazza in mano e quindi Pino Shooter fu atteso dalla mamma con questa ciabatte la mamma po 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 e le ragazze mamma mia mamma mia Pino 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 e poi il papà gli fece un discorso disse vicino a Pino che non voleva studiare e non voleva nemmeno lavorare pensava infatti di vivere eh allo sbando praticamente e vedi lui se la suona e se la canta come lui il papà disse Pino Shooter Pino Shooter vai a studiare così puoi avere un tuo lavoro e puoi essere anche fortemente indipendente penso un pochettino fortemente indipendente dagli altri e puoi guadagnare fino ai 4.000 euro al mese e forse un giorno diventare anche dirigente delle ferrovie dello Stato Pino Shooter attratto da questa grande cifra economica devo dirti la vita che cosa andò a fare praticamente andò andò a studiare vinsi un concorso nelle ferrovie dello Stato e oggi è capo stazione penso un pochettino povero Pino povero Pino con questa ciabatta che arrivava dappertutto Andrea Ceri giochano e te rimando l'amicizia mi chiamo seguite cerco del lune va bene io ti ringrazio di forza Inter Napoletano forza 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 Inter ecco io faccio il pugile il pugile di professione penso che una volta un mio amico un mio amico molto giovane voglia andare a fare un incontro con un pugile vecchio e chiappò un cazzotto in faccia lo cadde praticamente dritto dietro e bene si snap eccomi qui Pino Shooter il ragazzo è arrivata Melania Viola ragazzi salutiamo tutti quanti Melania Viola guarda addirittura qui sono caduto mamma mia che tristezza questa parte qua e appena scendo i ragazzi scendono anche loro appena salgo i ragazzi scendono che mi hanno portato il sushi bar ti ricordi c'era quel ragazzo Francesco Lombardo che ebbe quel problema alla schiena te lo ricordo di Pino Shooter bene si senti senti lo snap snap ecco qua guarda che bella canzone quella bella bella canzone prendiamo il regalone ecco qua è arrivata lei è arrivata è arrivata la bambina è arrivata guarda che è arrivata è arrivata è arrivata la professoressa ecco qua guarda la professoressa ah la professoressa a capo per terra ti è magna da sta pizza praticamente la professoressa guarda la professoressa da questa parte qua oggi non c'è Alessandro Narcanio volevo ascoltare il tg arriva verso le 14 Pino Shooter ciao 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 melania ciao dragonfly youtube siccome su adopt me ho qualcosa te lo regalo grazie dragonfly e io ti ringrazio ragazzi mi raccomando se avete più di 18 anni volete conoscere Pino Shooter Pino Shooter cerca ancora moglie è un uomo molto benestante molto bello quindi più di 18 anni 18 anni è un giorno contattate Pino Shooter ah mi è scoppiato mi è scoppiato dietro qualcosa poi Francesco ho effettuato una cospicua donazione hai effettuato la stessa donazione che hai fatto a me anche a Pino Shooter ebbene sì ebbene sì incredibile guardate la bambina la signora è arrivata la signora la signora guarda la signora la piccola signora poi faremo la canzone della signora poi Francesco ho effettuato una cospicua donazione ebbene sì ebbene guarda questo il ciucciaciupa il ciucciaciupa questo con lecca lecca sempre in bocca sono entrate la grazie Rosaria Piscitillo ragazzi salutiamo tutti quanti Rosario Piscitillo Pino Shooter è lei la signora è un po' troppo piccola per essere di altezza almeno di signora ragazzi se vi piace Roblox mi porterò altro Roblox guardate intanto lui che cosa fa il ciucciaciuccia il ciucciaciuccia ecco qua vi troppo l'astro giocherone sono quello nero sei quello nero praticamente sei questo qua dove sei il tartarughello chi sei lui sei lui praticamente Pino è il bro pazzo di Napoli Pino ragazzi venite anche su Twitch se avete Twitch venite anche su Twitch così potete vedere la live e parlare proprio col capo modellatore di Twitch che è Pino Shooter il ragazzo calabrese da 4.000 euro al mese dobbiamo dire la verità incredibile davvero Dragonfire YouTube se mi aggiungi posso entrare anche io su Broca Neve please ci tengo tanto Dragonfire non ti preoccupare ti aggiungerò ti aggiungerò appena finisce questa live perché adesso sto trasmettendo e non mi sembra bello che ovviamente poi dopo vada a lasciare tutti gli amici vedi come sono attivi ecco qua ci rimarrebbero molto male Giovanni no sono io chi sei tu ah questo Giovannino Giovanni Giovannino dove vai Giovannino dove vai il tartarughino è Giovannino Giovanni detto il tartarughino che gioca sempre a pallone voglio diventare calciatore che fanno tira un pallone e inizia a saltare assurdo dice ciao 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 Dragonfire ok capito ecco qua vedi non sono una non sono una signora ma alla fine tu lo sai tante 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 cose non sono una signora vedi che lei dice non sono papà 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 si vede che non sono una signora ecco qua assurdo davvero il mitico Giovanni Giovanni papà 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 giupi 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 il mitico giupi e lui chi è il ciuccia ciuccia il ciuccia ciuccia sta sempre qua Dragonfire un pino shooter si mette a ridere vedete ragazzi guardate come balla giupi 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 papà 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 ecco qua Giovannino giupi 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 oh aglia che dolore che dolore di panza dolore della sostanza la signora la signora mamma mia la signora dove ragazzi oh gli è esploso dietro gli è esploso dietro e mi metto nella piscina di mamma con la signora eccolo qua i nostri grandi amici Dragonfire comunque mi chiamo non Dragonfire ma Dragonfire Youtube Game bro pazzino Giovannino il tartaruchino il tartaruchino guarda Giovannino il tartaruchino guarda il tartaruchino il giovanino il tartaruchino ninja più tartaruchino che ninja Nicoletta Giova Giovannino se è bello e poverino se è bello e se è bendato un bacio disperato ma che canzone se è brava Alessia Cagnazzi ragazzi si mette a ridere salutiamo la cara Alessia Cagnazzi ragazzi Giovannino il tartaruchino facciamo questa canzone ragazzi va andiamo Giovanni Giovannino se è bello e poverino bendato un bacino sempre disperatino tienila ad occhio tienila ad occhio la signora che manda i bomboloni Dragonfire mamma mia gli è esploso dietro hai visto a mangiare pasta e fagioli ecco qua il pieno shooter ha pinato una banca ed è arrivato Giovannino il telefonino praticamente mi ha rapito il telefonino guarda i grandi amici i grandi amici di un tempo il ciuccia ciuccia lui si chiama ciuccia ciuccia Alessia ciao ciao Dragonfire macchina bianca Nicoletta ma no ma no Giovannino il tartaruchino il primo shooter ciao vedi Giovanni guarda lui come si si è decomposto questo qua è armato di ascia ascia ora doppia il ciuccia ciuccia guarda qua il ciuccia ciuccia assurdo ragazzi andiamo qui sopra andiamo a farci un bagno praticamente me ne vado qui sopra a fare il bagnetto e sono pronto sei un poeta mi ispiri ti ispiro ma in realtà Nicoletta ha scritto la canzone Giovanni Giovannino sei piccolo e carino assomiglia è vero un tartaruchino eccolo qua guardate ecco qua Giovanni Giovanni hai visto il ciuccia ciuccia vedi il ciuccia ciuccia guarda che dice guarda che dice macchina gialla mi prendi una palla macchina gialla mi prendi una palla vabbè sei un poeta un poeta ti ricordi Fantozzi lei è un poeta ecco qua macchina rossa ti butto il cellulare dentro la fossa Dragon Fire grazie 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 a te grazie a te di esistere come Chris grazie sì di esistere ve lo ricordate la canzone di Chris noi tutti ti apprezziamo e il cane il cane puzzolente il cane puffoente ragazzi andate sul mio canale youtube cercate cane puffoente guardate a volte si fetente il cane puffoente e a volte si petente e e Neymar Junior mi saluti come un santi caro santi come stai santi li chieri no caro santi Neymar Junior il cane puffoente ecco Goku cia la e cia la ma quando è brutto go ripiri piripiri 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 cia la e cia la non perdere tempo dice e bmw land no non perdo tempo ecco qua bene come fare youtube macchina brutta tiro un calcio in cu aspetta ti dovevo mandare anche a fancu ecco qua Neymar Junior bene Pino Sciuta dice welcome to this crazy time ta 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 ecco qua il mitico il mitico il mitico il vero pazzo di Napoli il ciupa il ciupa ciupa a volte prende fuoco viola e certo fa se si mangia se mangia se mangia le sue cose praticamente le sue cose puzzolenti penso un pochettino Neymar Junior ragazzi è arrivato il grande Neymar addirittura un cane è morto ragazzi Neymar Junior è appena arrivato sul canale salutiamo tutti quanti Neymar Junior se vi piace che Neymar Junior si sia iscritto al canale mettete mi piace ecco qua il mio idolo anche Gokulo praticamente andiamo a vedere il Gokulo ma anche il Gokulo dov'è eccolo qua caro Goku ciao come stai ecco qua c'è anche Goku se c'è Goku resta se c'è Goku ah resto guarda Gokulo eccolo qua Neymar Junior sei il mio idolo non Neymar tu sei il mio idolo e se vieni su Twitch ti faccio vedere anche il ditino che ti indica guarda Gokulo a tutta forza addirittura qui abbiamo abbiamo Goku pronto vedi un pochettino dietro c'è lo stemma della tartaruga della scuola della tartaruga il pallone il pallone di fan dei calciatori Nicoletta macchina gialla mi prudi una palla quella la trovi pure nella stalla addirittura palle dappertutto eccola qua la palla vedi la palla che prudeva praticamente assurdo davvero che risate il cane anche Cristiano Ronaldo il cane il cane è arrivato è arrivato eccolo guarda guarda qui sopra sono arrivati sono arrivati è arrivata la signora la casa di Gokulo ragazzi assurdo davvero andiamo qua dentro e fammi entrare ah Goku si è messo con l'orsacchiotto hai capito fammi entrare ah tutti quanti e ah mamma mia Super Saiyan dov'è è arrivato è vero il Super Saiyan mamma mia l'orsacchiotta della polizia Goku intendo non Neymar se tu non sono idolo noi tutti ti vogliamo bene noi tutti ti apprezziamo ti apprezziamo una casa storta Goku non Madrid di dove sei io dove vivo io abito in Valtellina ecco qua incredibile Valtellina in nord Lombardia la casa store la casa caruta mi ricordo c'era un ragazzo che conobbi tanti tanti anni fa avevo circa 20 anni su internet su un canale IRC di videogiochi e disse che fa questo Giovannino il ballerino guarda che mi ha portato qua mamma mia ecco qua il premio il premio praticamente assurdo griffavi casa Gakulo Gokulo Gokulo eccolo qua guarda Gokulo con l'idolo in mano praticamente devo pigliarlo devo pigliarlo aspetta aspetta lo prendo lo prendo devo pigliare il regalone di Gokulo ecco qua guarda so con il regalone in mano di Gokulo pensate un pochetto non è squadrativo ma diciamo rimango affezionato al Napoli anche se in realtà vivendo in Valtellina avendo viaggiato anche tanto per lavoro non ti nascondo non ti nascondo in realtà una squadra vale l'altra e questo è tutto azzurro praticamente il colore di Gokulo l'azzurrino praticamente griffavi casa Gokulo ecco che sono di Brindisi Puglia del Sud è molto molto bella la Puglia è un posto molto bello pensa che pensa che in Puglia in Puglia è uno degli altri giardini d'Europa ottimi campi agricoli ma sta casa è drogata più che altro è la casa a seguito del bradesismo dei campi freghe guarda qua guarda Giovannino chiede che dice questo che dice questo che ha detto una cosa mi prendi mi prendi mi prendi attento con le mani attento con le mani oh e chi tocca chi tocca niente non ti preoccupi non tocca niente non toccare non toccare non toccare niente la casa continua la casa storta il grande architetto l'architetto storto quello che ah non lo che fa che stava facendo nella camera da letto ragazzi molto molto un cane un cane nella camera da letto ragazzi esci cane esci fuori dalla camera da letto esci subito fuori dalla camera da letto esci scendi dal letto scendi al letto scendi al letto esci fuori dalla camera da letto esci esci cane ecco qua mi potrei salutare nel tuo prossimo video chiamandomi Santiago ti chiamo adesso anche qui Newmar Junior il grande Santiago il cane è pregato di uscire dalla camera da letto cane esci fuori dalla camera da letto Pietro Pollasso c'è giocato Pietro Pollasso il premio per il mio youtuber d'Italia noi dobbiamo arrivare a diventare il più grande canale di videogiochi d'Italia ce la possiamo fare perché questa è una vera e propria community ragazzi di amanti di videogiochi videogiochi ogni specie dove si parla di tutto videogiochi si ride e si scherza dopo vuoi provare i campi di battaglia caro Pietro Pollastro poi giocherò a Roblo è arrivato il bombolone ragazzi guarda chi è arrivato Aaron Salavu 52-0 52-0-11 posso giocare caro Aaron certo puoi giocare mi mandi la richiesta di amicizia giocherellone 79 e potrai giocare con me e con tutti i miei membri della community i miei follower cane esci esci subito cane esci subito da questa stanza il cane questa è una camera da letto vedi se questa è una camera da letto non ho capito perché tu devi entrare allora anche vedi Giovannino sta giocando a pallone il cane è pregato con i suoi peli praticamente devi entrare Gokulo fai qualcosa super Gokulo c'era Gokulo e super Gokulo guarda Gokulo che sta facendo Gokulo guarda guarda Gokulo guarda noi tutti ti apprezziamo Gokulo in faccia ho preso un Gokulo in faccia è un Francesca Milone ragazzi aspetta 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 e spero posso giocare vieni vieni Aaron Salavu 5201 ecco qua guarda un pochettino che dice ciao ciao Pino Shooter il capo moderatore ti saluta ti vuole bene ma questo gli spara ai due Gokuli praticamente Gokulo grande e Gokulo piccolo ti piace Gokulo grande e un Gokulo piccolo Francesca Milone dice viva l'amore viva l'affetto viva l'amicizia Aaron Salavu Pino Shooter ciao ti voglio bene Alessia Del Monte voglio giocare con te come faccio devi aggiungere Gokerellone 79 sarai anche tu come Gokulo grande e Gokulo piccolo protagonisti della live per caso ai 143 amici io non ricordo è il bro pazzo di Napoli giocarellone 79 G maiuscola giocarellone 79 attaccato a giocarellone cane non disobbedire ma infatti il cane dove è il cane il cane con i suoi peli è pregato di uscire guardate lo yacht praticamente ragazzi guardate che bello con sta statua in mano del Gokulo il piccolo Gokulo vedete un pochettino il grande Gokulo vedete guardate che Gokulo gigante cane non disobbedire andiamo avanti andiamo a vedere questa casa che cos'è qua dentro ah non ce la faccio più non ce la faccio più ah non ce la faccio più non ce la faccio più ah aiuto ah finalmente finalmente anche io ero entrato nel tuo server mi fa piacere di Pietro Pollastro Claudia Bonacina ciao sono Noemi mi puoi salutare per favore se puoi tu certo cara Noemi buongiornata e benvenuta sul canale del Gokeredone purtroppo ti ho salutato andiamo in viaggio andiamo in viaggio con Gokulo ti ho salutato praticamente quando stavo seduto purtroppo nel gabinetto che a volte anche nei videogiochi virtuali scappa scappa quel momento quel momento particolare che Pino Shooter comprende e conosce molto bene andiamo in viaggio che voi fate dov'è Gokulo si è buttato Gokulo e grazie alla nuvola ma ci siamo buttati qui dentro io e Gokulo praticamente mi ha messo qua dentro guarda guarda Gokulo a tutta forza Gokulo se ne corre davanti seguiamo Gokulo ragazzi cioè un bacon un bacon un uovo praticamente un uovo con il bacon addosso penso un pochettino a me quando vuoi giocare ai campi di battaglia Pris domani sicuramente giocheremo domani mi voglio mettere insieme a Gokulo nella macchina è Gokulo è Gokulone uno è bro pazzo ognuno è proprio Gokulo praticamente sono triste Nicoletta Nicoletta è triste ha una crisi praticamente di tristezza e questa crisi di tristezza aspetta Gokulo ecco qua siamo in macchina con Gokulo ragazzi vedete un pochettino assurdo in macchina con Gokulo e questo è il cane dietro il cane sempre dietro sono triste sì evviva grazie sempre alle 8 anche verso le 8 sì perché diciamo la maggior parte dei miei follower si sveglia verso quell'ora forse domani un po' prima addirittura ma in genere verso le 8 perché i miei follower si svegliano verso quell'ora e quindi mi sveglio un po' prima se ci sono in casa la mattina e non devo andare a faticare a fravacare mi troverete sicuramente Claudia Bonacina ciao cara Claudia buongiorno a te Nicoletta voglio un pollo un tacchino voi un tacchino da coccolare pensate un pochettino Gokulo il mio Gokulo ci ha lasciato a me e al cane praticamente quindi meglio uscire fuori insieme a Gokulo eccolo qua il piccolo Gokulo vedete Pietro Polastro ok voglio un tacchino chiaro un tacchino dia un tacchino a Nicoletta la emo fermi 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 Gokulo ecco qua dice qualcosa andrà con fare youtube se è una cosa quando esci quindi se c'è il mio conto che ti ho mandato la richiesta credo di sì spero di sì giocherò in 79 e dopo ti aggiungo in modo tale che domani sarai anche tu praticamente Pietro Polastro comunque chi è in questa chat che gioca i campi di battaglia dei più forti su Roblox chi è forse Gokulo praticamente andiamo praticamente da questa parte qua e vediamo ovviamente chi c'è eccolo qua Gokulo io e Gokulo sulla barcatilla con la con la statuetta di Gokulo e chi ha un tacchino mi doni un tacchino oh no il piccolo cane il piccolo cane che ci guarda praticamente ragazzi il Gokulo mi ha lasciato col cane in barca e chi è che mi ha tirato io non voglio essere attirato il cane ti guarda così va bene signori che dirvi il cane ma stiamo partendo mamma è bellissimo andiamo qui sopra andiamo io e il cane io mamma te tu diceva una vecchia canzone ve lo ricordate io mamma te tu assoluto davvero e qui io e il cane e tu Gokulo ha un Gokulo il tacchino non so io al momento siediti prima che ti siediti prima che cadi mamma mia il grande saggio cane è un cane padre praticamente più che altro ho 100 kg avevo capito ho 100 kg ho 1000 kg ho 1000 kg da smaltire praticamente è un bro pazzo di Napoli ho 100 kg in Fortnite molto molto bravo io e il cane siamo io e il cane se ti piace questo cane se ti piace questo cane metti mi piace ragazzi mettete mi piace al cane guarda il cane il piccolo cane il piccolo cane che ti guarda così guarda un pochettino questo cane ragazzi assurdo davvero sto cane lo sai che nei campi di battaglia c'è Gokulo c'è Gokulo pure eccolo qua Giovi Giova e alla fine di film dove sta e si Giovi e si Giova il tartarugrughino eccolo qua guarda Giovi canta canta dici oh Giovi Giova il tartarugrughino dove ecco il super il grande Gokulo praticamente guarda che grande Gokulo quello l'azzurro praticamente forza Napoli Gokulo forza Napoli è arrivato vedi un pochettino è Giovi e Giova ti guarda il bro io ho X 1458 KIL complimenti lo so che nei campi di dici dice Gokulo che ti faccio vedere i miei schiavi i tuoi schiavi sono i tacchini praticati quindi un allevamento di tacchini Nicoletta X X la Emo Nicoletta X pensate un pochettino incredibile Giovi Giova che si mette praticamente qui sopra mamma io sono rimasto io il cane guarda il cane in che posizione sta una posizione molto particolare Giovi Giova è arrivato praticamente e si mangia il suo babà è molto molto particolare noi in fortuna sui campi di battaglia io non mi ricordo quale chi l'ho fatto parecchie va bene signori che dirvi di Roblox abbiamo giocato per quasi un'ora a Roblox ci siamo divertiti tutti quanti Nicoletta dice cosa sta succedendo Pietro Pollastro sì io i campi 1458 KIL sui campi Dragonfire comunque dopo la live si è disponibile a giocare io e tu caro Dragonfire a Fortnite lo devo aggiornare quindi stasera giocherò a Fortnite Pietro Pollastro è il vero pazzo di Napoli se ci sei lo è grande arrivati fra poco ragazzi infatti porteremo un gioco per il fan dei calciatori che non vedo che forse ha un altro nick oggi stamattina guardate vi lascio col cane ho già ammazzato la mia amica mosca mi dispiace forse perché stavo iniziando a puzzare ti aveva fastidio sei un grande Giovanni no tu sei un grande perché anche tu sei sicuramente iscritto al canale del giocherellone e fai parte anche tu della community del giocherellone questa infatti ormai è una vera e propria community del videogioco e anche tu ne fai parte e quindi sei anche tu un grande è il vero pazzo di Napoli ti adoro sei il mio idolo no tu sei il nostro idolo tu sei il nostro idolo quindi non ti preoccupare di questa Nicoletta mette il puntino alla Chris forse perché forse Chris diventerà il nuovo fidanzato di Nicoletta non lo sappiamo non lo sappiamo allora Dragon fare accetta Roblox mi raccomando sei un grande tu allora tu sei un grande non io tu sei un grande il canale fatto da tutti noi Pino tu sei il nostro idolo guarda guarda quando lo dico guarda Pino no tu sei il nostro idolo sei il bro di zona giocheremo sei il bro di zona di zona di zona di Mondragone praticamente va bene signori che dirvi grande grande gioco ci siamo divertiti fan di calciatori il mio cugino ah tu cugino è fan di calciatori Franca di Corradio dire sì che ho giocato su uno scimmie che abita in 6-5 bello Street Fighter 6 non ancora giocato Tecnotto è uscito anche un nuovo download content Granblue Fantasy vs Rising molto bello Elder Ring ho appena uscito Alan Wake 2 ancora lo devo giocare Final Fantasy 16 sto aspettando la versione PC Broadsteen 2 lo volevo giocare però non l'ho portato Mortal Kombat tu vanno ancora lo devo portare e lo devo giocare grande franta di Corrado Pinocito tu 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 ecco qua ecco qua ma che cavolo io con Chris non vuoi stare con Chris però Chris se metti il puntino se metti il puntino iscrivetevi iscrivetevi sarete anche voi ragazzi protagonisti di questa grande community di videogiocatori ma che cavolo con Chris non ho premesso il puntino Dragonfire a dopo XOD dice a dopo allora mi accetta l'amicizia certo appena esco Dragonfire ti aspetto ciao va bene grazie ovviamente ragazzi a tutti questi sono stati i protagonisti della live di oggi ve li voglio inquadrare guardate un pochettino ecco qua i grandi amici della community del giocherilone ovviamente iscrivetevi se volete fare parte di questa grandissima community che sta crescendo e che diventerà quasi sicuramente la più grande community videoludica di Italia pensate un pochettino tu sei il nostro iperi tu tu sei il nostro idolo ecco qua e bro e ciao ciao io sono troppo piccolo di Chris sei troppo piccolo una community pacifica poi soprattutto per fortuna ma infatti tu sai benissimo caro Frank Di Corrado che chi viene qui a insultare o a molestare addirittura un paio di volte abbiamo avuto anche delle minacce viene subito segnalato e messo alla porta e tu lo sai perché qui tutti tutti ovviamente una community di persone educate di persone perbene di persone che ovviamente che ridono che scherzano che non fanno volgarità schifezze e non dicono le parolacce Nicoletta il cane il cane ci piace praticamente però ovviamente non mangiate il cane come fanno a volte alcuni cinesi devo fare vado nel tuo gioco vai anche tu giocherone così viviamo certo viva il cane viva la community e viva tutto quante va bene signori mentre Goku lo sta praticamente qui sopra steso così io vi saluto iscrivetevi se potete abbonatevi vi ricordo che addirittura su tutti i abbonamenti sono gratuiti su youtube partono solo da un euro nemmeno il costo di un caffè detto questo tra una sparatoria e l'altra vi ricordo sempre che se volete comprare giochi commerciali potete cliccare in box informazioni poi in Christian Gaming se volete comprare i gadget del giocherone potete farlo cliccate in box informazioni sul negozio se volete comprare libri scritti dal giocherone cliccate su altro e ci sono libri che ho pubblicato su Amazon voglio mangiare il cane non farlo Nicoletta Bro vuole Monis più che Monis Mario e Newt più che Monis vuole Monkey Island ciao ti adoro anche io ti adoro caro del Bro ragazzi i protagonisti della chat della live vi salutano e per il resto ci vediamo tra 5 minuti con una bellissima sorpresa a tra poco ciao 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 scrivi ciao metti mi piace a questo video se ti è piaciuto e mi raccomando canta questa canzone tu 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 Pino Shooter ecco qua a me fa sempre dire che sei un grande ma è bello ma sai ma ti voglio dire una bella cosa perché dici il bro pazzo ciao ti voglio bene anche io ti voglio bene cara Nicoletta ricorda sempre questo nella vita te lo dico perché sai che sono sono un uomo io di età e ne ho viste di tutti i colori nella vita si sempre felice e cerca sempre di non essere triste perché la vita è solo una e non vale la pena essere triste te lo posso assicurare detto questa cosa e ti lascio con questa piccola considerazione filosofica sulla vita non vale la pena essere triste vita solo una purtroppo la vita è breve l'età di vita media in Italia è 82 anni quindi goditela sei sempre felice ed evita i problemi inutili questo per dire perché hai detto questa cosa Giulietta Vladut ciao Nicoletta dice tuturututu ecco qua mi dice il tuo nome di Roblox per favore Giulietta Vladut giocarellone 79 Elbro dice tuturututu albro pazzo io non ho ragazzi sei un poeta no più che un filosofo ecco qua anche perché se vai nel canale youtube e cerchi fulmini di filosofia vedrai una vera e propria playlist sulla filosofia sul mio concetto di amore c'è proprio un vero e proprio concetto di amore e poi sulle considerazioni filosofiche quindi pensate un pochettino giusto per farti capire questa cosa però però il poeta poi pensa che anticamente voi dite questa cosa i poeti erano coloro che scrivevano le canzoni quindi quelli che oggi noi chiamiamo autori di canzoni erano i poeti e purtroppo vi lascio anche con questa brutta notizia per questo vi dico sempre ragazzi di fare il vostro dovere ma anche di godervela è morta l'autrice delle canzoni di Cristina Davena grandi o piccoli sicuramente avete ascoltato almeno una volta le canzoni di Cristina Davena grande cantante di sigle di cartone animati per ragazzi e per bambini è morta la scrittrice delle canzoni 67 anni quindi vita la vita è breve si può morire da un momento all'altro siate sempre felici e fate sempre quello che volete voi mettete a frutto le vostre passioni per crearvi il vostro lavoro conosci Amy Winehouse no Monica Francesco Giulietta Luido grazie grazie a te Giulietta lo puoi scrivere il nome Robert giocherellone 79 proprio come il nome del canale solo col 79 mi fai vedere la tua skin eccola qua te la faccio vedere subito eccola qua questa è la mia skin praticamente la skin del pazzo infatti tu fai delle bellissime canzoni perciò sei un parito ma io ti ringrazio poi se ti abbonerai è il bro di pazzo di Napoli c'è un servizio per gli abbonati bellissimo short di 15 secondi a ogni mese short di 60 secondi e una video canzone solo per te penso un pochino come ho fatto anche per gli altri giustamente abbonati il bro pazzo di Napoli di Posa in Pace ok grazie a tutti ciao a tutti i nostri amici vi salutano tutti quanti siamo ovviamente impazziti qui dal divertimento ecco qua una vera e propria banda musicale 5 minuti di pausa e torno di nuovo con voi ti ho inviato la richiesta me la accetti Neymar Junior esco dalla live di Roblox ti accetto l'amicizia grazie io la skin con la faccia con un orso in faccia perché hai scelto questa cosa non lo sappiamo se è un orso acchiottino giovanino dice ciao ciao giovanino e il bro pazzo di Napoli bellissimo ragazzi 5 minuti e torno di nuovo con voi a tra pochissimo ciao